la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati con la nostra rassegna stampa oggi 23 dicembre partiamo come di consueto con i titoli del mattino la prima pagina nazionale vediamo il titolo di apertura recovery più fondi al sud l'intervista il ministro Provenzano e i governatori basta con le rivendicazioni territoriali per andare oltre il 34% decisiva la qualità dei progetti la fiscalità di vantaggio non si tocca recovery il ministro Provenzano conferma più fondi al sud e avverte i governatori basta con le rivendicazioni territoriali per andare oltre il 34% decisiva la qualità dei progetti poi aggiunge nella manovra la fiscalità di vantaggio viene confermata fino al 2029 e finanziata per gli stessi importi dunque confermata una misura che punta su un sud che lavora e che produce come una grande priorità nazionale altro che tagli e da domenica avvia le somministrazioni polemica sui criteri l'ombra dei clan sui vaccini piano sicurezza per le dosi il vaccino c'è da domenica partono le somministrazioni ma ora la grande missione dell'Italia è fare in modo che tutte le dosi arrivino a destinazione disposto un piano di sicurezza per evitare furti l'affare fa gola ai clan e campagna penalizzata meno medici in organico e popolazione più giovane la campagna è penalizzata dai criteri per la distribuzione dei vaccini meno medici negli organici da utilizzare per le somministrazioni e l'età anagrafica della popolazione più bassa hanno fatto arrivare nella nostra regione meno dosi e ora sul centro pagina Juve-Napoli il tribunale del CONI ribalta le sentenze via la penalità è partita da giocare giustizia è fatta annullato senza rinvio e questa è la formula con la quale il collegio di garanzia ha colto il ricorso del Napoli contro la FIGC e le sentenze che infliggevano lo 0-3 a tavolino e un punto di penalizzazione agli azzurri per non essersi presentati a Torino per la gara con la Juve la decisione cancella il risultato a tavolino il punto di penalizzazione il match si dovrà giocare e poi c'è il punto ha vinto lo sport ha perso il calcio di taglio basso presentato l'idrovolante con le ali pieghevoli Casoria ecco l'auto del futuro vola con il decollo verticale lasciamo la prima pagina del mattino ma proseguiamo sempre con questo quotidiano andiamo a vedere il primo piano in questo caso sulle misure economiche per le cartelle del fisco nuovo rinvio di tre mesi si scure sulla manovra il tesoro vuole scongiurare l'arrivo di milioni di avvisi dal primo gennaio salta la nuova salguaguardia degli esodati la ragioneria viola le indicazioni della UE andiamo a vedere nel dettaglio altri tre mesi di sospensione delle cartelle della riscossione degli avvisi fiscali pedaggi autostradali congelati tempo fino a fine 2021 per concorsi e assunzioni in sospeso dalla pubblica amministrazione come ogni anno il decreto mille proroghe rappresenta l'unica occasione per rinviare problemi che non si ritiene possibile risolvere e inserire qualche correttivo a norme da poco approvate dovrebbe essere esaminato dal governo oggi pomeriggio mentre la legge di bilancio non ha ancora ottenuto il via libera dalla Camera che arriverà dopo Natale proprio il percorso della manovra si è complicato ieri sera dopo la maratona di emendamenti in commissione è successo che la ragioneria generale dello Stato ha cassato per mancanza di copertura o di relazione tecnica 14 modifiche appena approvate chiedendo la riformulazione per un numero ancora maggiore e poi altri sei mesi ad Alitalia per restituire il prestito da 400 milioni le misure sanitarie ed emergenze in vigore fino a marzo mentre le tariffe autostradali ferme fino a luglio in attesa della definizione dei piani economici dei concessionari poi ci sono gli altri l'invii l'esame della patente più tempo per sostenere gli esami di guida per ottenere la patente per le domande presentate nel 2020 la prova delle cognizioni potrà essere svolta entro un anno dalla richiesta le elezioni nei comuni nuove elezioni entro il 31 marzo nei comuni in cui il voto doveva essere annullato in alcune sezioni a causa del contagio poi prescrizione dei tributi slittano i termini di prescrizione per i versamenti dei contributi relativi a previdenza e assistenza sociale obbligatoria fibra ottica nelle scuole procedure più veloci per la rete in fibra ottica in scuole ospedali appalti rapidi anche nel 2021 potrà proseguire anche nel 2021 la semplificazione prevista dal decreto sblocca plantieri che già nel 2019 e 2020 consentiva di affidare appalti pubblici sulla base del solo progetto esecutivo ma dall'esecutivo blocco definitivo a trivelle e concessioni petrolifere lo stop avrebbe ricaduto sugli impianti Eni di Ravenna Gela e della Valdagri i sindacati dicono una scelta inaccettabile e poi c'è Confcommercio la protesta dei ristoratori che dicono basta caos normativo costretti a tenere le serrande abbassate i ristoratori e i gestori dei pubblici servizi non intendono passare Natale e Capodanno in silenzio a partire da oggi per tutta la durata delle festività decine di migliaia di locali in tutta Italia esporranno un cartello di protesta all'indirizzo del governo per dire basta al caos normativo degli ultimi mesi che continua a penalizzare le imprese e l'iniziativa unitaria lanciata da Fipe e Fiepet le principali associazioni dei pubblici esercizi di Confcommercio e Confesercenti lasciamo anche questa pagina andiamo avanti vediamo il primo piano è sull'intervista a Giuseppe Provenzano Sud non ci saranno tagli dice agevolazioni fino al 2029 con i fondi europei più decontribuzioni e no taxaria per l'iscrizione all'università giuste le richieste dei governatori oltre il 34% ma alla fine conteranno i progetti non le quote e dice poi bene gli incentivi ma per ridurre il divario bisogna investire di più per scuola sanità e mobilità replicare il modello San Giovanni a Teduccio recovery rotta su innovazione ma anche sui servizi e poi sulla stessa pagina Oliverio scippati 2 miliardi destinati alle imprese apprendo che in piena notte in commissione bilancio nella camera dei deputati il governo ha presentato un emendamento per 2 miliardi di euro da destinare a diverse iniziative in campo nazionale 2 miliardi che vengono sottratti al fondo della dote europea di 3,5 miliardi destinati al sostegno delle imprese e dell'occupazione nel mezzogiorno attraverso la decontribuzione 2 miliardi vengono sottratti per il 2021 e 1 miliardo nel 2022 e la denuncia dell'ex presidente della regione Calabria Mario Oliverio ancora una volta prosegue il sud viene scippato defraudato di risorse ad esso destinate ora invece andiamo a dare lettura della prima pagina del mattino dedicata a Salerno e provincia il titolo di apertura la pandemia dicembre nero 150 vittime i salernitani uccisi dal virus ora sono 340 ma aumentano i guariti 470 nell'ultima settimana pesante il tributo di sangue della seconda ondata ma i contagi continuano a calare ieri 86 positivi calano i contagi ma assume i contorni di un pollettino di guerra il numero dei morti nel salernitano a dicembre sono 150 infatti i decessi da inizio mese aggiornati dall'ASL di cui ben 32 negli ultimi sette giorni sono 1308 invece i casi emersi nel corso della settimana appena conclusa a cui fanno da contraltare per fortuna anche 470 nuovi guariti sono 86 intanto i tamponi positivi comunicati nell'ultimo bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione salgono a 340 di cessi di inizio pandemia di cui 150 nel corso del mese di dicembre nel Cilento Castellabate colpito il coro parrocciale Ascea testa a catena per la bimba infetta contagi dal coro parrocciale boom di infetti a Castellabate e polemica per la caccia all'untore che si è scatenata attesa per i test eseguiti alcuni alunni e maestri ad Ascea dopo la scoperta del contagio di una bimba con la sua mamma sempre di taglio alto la denuncia rabbia baristi noi chiusi ragazzi in strada con i drink bar e ristoranti a porte chiuse strade vicoli affollati fino a tardasera da comitive che nonostante i divieti continuano a brindare l'esasperazione è alle stelle poi sul centropagina l'emergenza bloccati in Inghilterra abbiamo paura il racconto degli studenti salernitani tra disagi e timori e poi la politica nell'ultimo consiglio c'è anche Piazzalario vince la democrazia opposizione e dissidenti vincono la battaglia ce l'hanno esulta grazie alla spinta del prefetto assise convocate il 30 dicembre capitolo mobilità rientro a scuola dopo le feste pieno trasporti con 7 macro aree di taglio basso c'è il calcio serie B salernitana il primo posto sotto l'albero pari dell'Empoli niente sorpasso i Granata da soli al vertice e invece adesso lasciamo momentaneamente il mattino e andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano la città il titolo di apertura scuola e vaccini per tornare a vivere fissate le regole per la didattica in presenza Salerno Valle dell'Irno e Agro si entra in classe dalle 8 alle 10 del mattino domenica a Ruggi inizia la campagna contro il virus l'antidoto della Pfizer sarà iniettato a centri sanitari sul centro pagina aprono le aree verdi sorvegliate la City ritrova i suoi parchi e poi gole del Sammaro fedeltà ed eterno amore lo si giura nelle caverne di lato c'è lo sport salernitana la vetta e granata i segreti di Castori e poi serie A la spunta il Napoli con la Juve si gioca sempre di taglio alto Camerota affari al comune processo in 39 ex sindaci nei guai poi la crona Cassano giovane gambizzato davanti al bar arrestato al Bano ad Eboli follia sul viale botte insulti e sputi al vigile urbano di taglio basso invece a Salerno alberi di Natale spesa di lusso i 10 abeti posizionati in città costano 40.000 euro all'ente senza le luci d'artista dovevano essere feste all'insegna della sobrietà e del basso profilo a Salerno eppure gli addobbi natalizi acquistati dal comune sono costati in tutto 40.559 euro il totale deriva dalla fornitura distinta di 10 alberi di Natale ma anche di luminare e addobbi vari che sono stati installati in diversi punti della città lasciamo anche la città e andiamo a vedere il quotidiano le cronache la prima pagina ovviamente l'apertura dalla RAI reportage contro De Luca pandemia e voti le accuse dei report per la gestione sanità il servizio evidenziato i rapporti tra il pubblico e il privato il ruolo di Coscioni nel mirino i bollettini sui posti di terapia intensiva tra ottobre e novembre e poi la denuncia di Rolando Scotillo premialità a noi gli operatori contagiati sul lavoro sulla ripartizione esprimiamo forti dubbi e poi c'è il calcio la squadra al primo posto l'Empoli bloccato dalla Reggiana la Salernitana si gode il Natale Granata e poi la ceramica Martina Marchi e il suo brand e l'autorità portuale il ritorno di annunziata arriva il sì da parte del Ministero e ora invece noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità però torniamo tra pochissimo con la seconda parte della nostra rassegna stampa tra poco ben ritrovati con la seconda parte della nostra rassegna stampa ritorniamo sul mattino e andiamo a vedere una delle pagine dedicate a Salerno e provincia il primo piano su Salerno in questo caso le feste la sicurezza movida rabbia dei baristi noi chiusi i ragazzini si ubriacano in strada concorrenza sleale dai supermercati dai ristoratori un esposto alla procura di vieti violati oggi una vigilia anticipata barre e ristoranti a porte chiuse strade e vicoli affollati fino a tardasera da comitive che nonostante i vieti continuano a brindare l'esasperazione degli operatori del settore ormai alle stelle e c'è chi minaccia di presentare un esposto in procura per denunciare una situazione paradossale dove i mancati incassi restano un problema solo di chi non riesce a far fronte alle spese ma non contribuiscono a risolvere l'emergenza sanitaria che di questo passo rischia di prorungarsi per chissà quanto tempo ancora con l'unico risultato di veder morire decine e decine di attività e poi Cin Cin ce l'ha aperto monta la polemica non è nei locali che si diffonde il contagio e fuori non c'è controllo e stop ai self-service di bevante e cibi riaperti i parchi e la villa comunale a Salerno è solo dal nord intanto molte a 15 persone 3.000 visitate all'arrivo a Salerno sui treni e bus nessuno con febbre lasciamo anche questa pagina e andiamo a vedere sempre sul mattino alcune delle notizie relative alla provincia sud di Salerno vediamo appalti e tangenti sistema Camarathon vanno tutti a processo corruzione rinviate a giudizio gli ex sindaci Romano e Troccoli e altri 37 tra amministratori funzionari e legali coinvolti nel giro per 39 indagati coinvolti nell'inchiesta Camarathon il 14 il 4 marzo del prossimo anno inizierà il processo sono stati tutti rinviati a giudizio al termine dell'udienza preliminare che si è svolta ieri mattina presso il tribunale di Vallo della Lucania altre tre persone coinvolte nella vicenda giudiziaria e legate alla SOGET hanno chiesto il rito abbreviato per tutti a chiedere il processo era stato il sostituto procuratore Vincenzo Palumbo al termine delle indagini relative alla vicenda giudiziaria che ha sconvolto il comune di Camerota il 16 maggio del 2019 quel giorno scattarono 12 misure cautelari per ex politici funzionari e professionisti tutti legati alla giunta guidata dalla seconda metà del 2012 ai primi mesi del 2017 dal sindaco Antonio Romano con lui a finire nei guai Antonio Troccoli già primo cittadino il figlio Ciro assessore nella giunta romano gli ex amministratori Michele del Duca Rosario Rosario Abate e Fernando Cammarano furono sottoposti agli arresti per gli ex primi cittadini si aprirono anche le porte del carcere di Vallo il proseguo delle indagini ha fatto lievitare il numero degli indagati fino ad arrivare ad un totale di 42 e coinvolgendo altri funzionari avvocati vigili urbani e dirigenti della SOGET e a Sala Consilina invece il carcere resta chiuso la battaglia continua il carcere di Sala Consilina resta chiuso il Ministero della Giustizia ha comunicato ufficialmente la decisione di confermare la chiusura della casa circondariale di Via Gioberti perché ritenuta non economicamente conveniente per le dimensioni potendo accogliere meno di 50 detenuti a due anni dalla conferenza dei servizi imposta da una sentenza del Consiglio di Stato con cui era stato accolto il ricorso del Comune di Sala Consilina che aveva contestato la legittimità del provvedimento di soppressione del carcere firmato nel 2015 dall'allora Ministro della Giustizia Andrea Orlando arriva la decisione che conferma quella precedente ad accendere la speranza di una possibile riapertura della struttura carceraria era stata la sentenza del Consiglio di Stato che aveva bloccato la decisione del Ministero la parola fire però non è ancora scritta in una riunione che si è tenuta nella giornata di lunedì l'amministrazione comunale guidata da Francesco Cavallone ha deciso di ingaggiare una nuova battaglia giudiziaria per far valere le proprie ragioni e si rivolgerà al TAR per chiedere l'annullamento del nuovo provvedimento di soppressione al Comune di Sala Consilina e al Vallo di Diano sono stati sottratti negli ultimi dieci anni due importanti presidi di giustizia tribunale e carcere ma il territorio non vuole ancora arrendersi ora invece lasciamo il mattino il quotidiano il mattino ma ci spostiamo sul quotidiano le cronache per vedere notizie per dare lettura di notizie sempre relative al Vallo di Diano andiamo a vedere Polla la struttura si sta dotando dell'attrezzatura parliamo dell'ospedale Luigi Curto di Polla che diventa hub dei vaccini tra gli ospedali che saranno hub ovvero le strutture dove saranno conservate le fiale del vaccino inviate dalla Pfizer e poi effettuate le iniezioni cioè il Luigi Curto di Polla la struttura ospedaliera si sta dotando di tutta l'attrezzatura necessaria alla conservazione dei vaccini che saranno somministrate agli operatori dell'ospedale di Polla molto probabilmente già dalla metà di gennaio i sieri saranno conservati a meno 70 gradi in maxi frigo speciali le strutture sanitarie coinvolte in provincia di Salerno sono l'Umberto I di Nocera Inferiore il Ruggi di Salerno il Santa Maria della Speranza di Battipaglia il San Luca di Vallo della Lucania il Curto di Polla intanto sono risultati positivi 4 infermieri del reparto Covid dell'ospedale e un'altra infermiere in servizio verso un altro reparto saranno eseguiti altri tamponi di controllo che già vengono eseguiti con cadenza periodica su tutto il personale in servizio al Curto su disposizione del direttore sanitario Luigi Mandia infine sul fronte ai contagi sono risultati positivi 5 ospiti del centro Sprar di Polla si tratta di ragazzi che vivono da tempo nella struttura ben integrati nel contesto sociale ed in quarantena già da diversi giorni poi Sant'Arsenio un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea e dal Ministero dell'Interno nasce il progetto Teseo a sto segno del disagio psichico e delle dipendenze nasce a Sant'Arsenio appunto il progetto Teseo un'iniziativa cofinanziata dall'Unione Europea e dal Ministro dell'Interno a Valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione il progetto supporta gli operatori sanitari e sociali del Vallo di Diano nella presa a carico di persone provenienti da paesi terzi ma anche residenti nei territori limitrofi che presentano disagio psichico e patologie legate alle dipendenze Teseo è un progetto nato in partnership con il Comune di Sant'Arsenio la cooperativa sociale Iris di San Rufo e l'Asile di Salerno Teseo vuole intervenire sul disagio soprattutto di tipo psichico in un'area interna del territorio salernitano che offre servizi sanitari essenziali oltre al disagio psichico il progetto interviene attraverso un'equip multiprofessionale sulle dipendenze ma anche sulla doppia diagnosi e sul disagio collerato correlato a situazioni di marginalità per non avere intorno a sé gli interlocutori adatti per risolverlo o affrontarlo e poi ancora Teggiano borsa di studio in ricordo di Federica raccolti oltre 11.000 euro in ricordo di Federica Tropiano la giovane Teggiano deceduta un mese fa in seguito a un tragico incidente domestico Federica era amatissima e seguiva con forza e talento le sue passioni tra queste anche la danza per poterla ricordare al meglio ovviamente la famiglia ha deciso di istituire una raccolta fondi per creare una borsa di studio in suo ricordo e in un mese grazie anche a supporto dell'associazione Antonio Finamore sono stati raccolti oltre 11.000 euro ringraziamo tutte quelle persone che hanno voluto ricordare la nostra Federica con un gesto concreto un dono verso la sua passione verso un progetto che servirà per ricordarla per sempre e poi vallo di Diano l'adozione un gesto d'amore ma anche di responsabilità oltre 170 cani randaggi adottati grazie a Quala Zampa F prendere un animale è un atto di grande responsabilità farlo nel periodo natalizio necessita di ancora maggiore consapevolezza dell'impegno della cura ad assicurare loro che sia un gatto un cane un coniglio un canarino altri tipi di animali classificati come da compagnia il senso di responsabilità deve andare di pari passo con il fare entrare un animale nella propria abitazione nella propria vita se così non è è meglio evitare lasciar perdere faremo ancora più male a questi ci vuole responsabilità che a molti di noi manca e da qui agli abbandoni troppo anche nel Vallo di Diano vengono abbandonati non solo cuccioli ma anche tanti cani gatti anziani spesso amici infedeli riconoscenti per anni verso i loro padroni ci sono nel Vallo di Diano e Tanagro tanti volontari che sopperiscono a volta le mancanze di chi ne ha autorità a cercare di arginare e dilagare fenomeno del randagismo tra questi l'associazione Quala Zamba F è un piccolo gruppo si descrivono ma si considerano una grande famiglia operiamo in un territorio in cui il randagismo è una piega sociale ci impegniamo a diffondere la cultura della corretta convivenza a realizzare campagne di sterilizzazione a sensibilizzare i cittadini sugli animali con questa notizia si conclude la nostra rassegna stampa io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona giornata a a a a Grazie a tutti